Questa è la stanza dell'hotel Itapuà La più economica ovviamente Però c'è il ventilatore E dove stiamo? Ah, Incarnazione Ciao mamma, ciao mamma Guarda, capelli bianchi Barba bionda Incredibile, incredibile La televisione non funziona Ma io ho pagato per non avere la televisione Et voilà Bagno doccia Oh, un altro specchio, due specchi nella camera Tante saponette per i bimbi poveri